sei per seo 30 seo perfetto e benvenuti ragazzi io sono artisius e io sono a roma e c'è anche rosso da qualche parte nella stessa stanza ma oggi ho chichiatto un po con le impulsioni dell'emulatore e non lagga più almeno transizione niente perfetto comunque l'ultima volta abbiamo battuto pedro o scotto che cazzo si chiamava in realtà è pedro pedro ma si chiama scott e ho tutti i pokemon carichi e li ho fatti ricaricare no non li ho fatti ricaricare facciamoli ricaricare per sicurezza li hai caricati nel momento prima di dover appicciare la registrazione giusto soffre di alzheimer al chiesi io si soffro di alzheimer tante lei prosegue oddio si può andare avanti e toccare il touchscreen contemporaneamente chi cazzo lo sapeva questo ah boh eh va bene lasciamo l'orario che fa figo fa figo sono le 16.32 allenatore ma dovevo ritornare qua sai che non ricordo no ok ma ho preso la medaglia certo io abbiamo così tanto touch screen Chiaro a fare sparia è sparita non c'è più ecco perché erano tutti curati allora vaffaculo te la tua palestra di merda mi ha dato un mt Pedro che cazzo di mt è oh lo so leccata a che punto è andato in mineropoli ok evidente che è talitamente talentamente naturale che cazzo ho detto uomo misterioso si chiama zitti voi 1 non biglionate in giro senza motivo non interrompete qualcuno che sta parlando 3 se non ottenete quello che volete non alzate la voce per sembrare più minacciosi 4 non credete di essere forti solo perché siete in gruppo sto leggendo e non ce l'abbia con me 5 poi che razza di assurdi vestiti sono quelli ce l'ho con lei è inutile che cazzo e si definiscono adulti è su un fatto personale what the fuck dating galassia e rossa giovi unici di me e sconfiggiamo questi due lost individui ma chissà cosa avranno non avranno sicuramente gli zubat che avevano nella serie di 7-8 anni fa eh infatti non mi ricordo chi avessero ho paura metapod snorlax finchè metapod con snorlax guarda va benissimo meganium non avevi i cinchart beh no è vero è quello è il terzo lucas è quello che ha scelto ma non è lucas si questo è lucas non è lucas si il mio amico è lucas no si non è il biondo ma è il biondo è Elvis Elvis mi perdono i sono saltati i primi due episodi tre tre è inutile in qualsiasi generazione i compagni di squadra sono in utile rosso c'è metapod ARTEN che cosa ha fatto ARTEN wow snorlax questo dovrebbe prendere entrambi vai si li prende entrambi capo lo metti ora qui non ha fatto un merito lei ha snorlax si anche questa prende entrambi ha fatto qualcosa di utile è fisica giusto snorlax è caduto e lui è corrotron è molto efficace mette un tent Melanie ma che s****** di ripolere vieni dirci יו ci sono tutti due chefs cioè Zoe e Zoe sau e 10 vanno clonato sono uguali cazzo guarda Poverino non si vede più la sua skin io so allora chi la insegna spaccaroccia a Gleispor? no a porcino no è meglio a Gleispor o a porcino o a porcino in quel caso porcino è no aspetta Bidoc non lo imparto è morto malissimo per colpa di Torch e lì c'è una poke bone non la roccia ossoraffica io santo ho trovato ossoraffica a caso? casissimo e anche il pokemon si catturero lo ho trovato oddio Tengro non t'ho provato Tengro? guarda che c'è di coso grosso ok così lei bussola porcino ma cosa? ma non è vero così lei spacca sul lontano no mi spaccherà le dita forse oh non sta dentro tutto per tutto ma che... Dio santo palissimo ora dovrebbe rimanere spererei vabbè vai di premere buono ignoranza premiamo tutti i tasti si 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 tendro io lo chiamerei albero di me pantene il pantene lo sciampo di capelli guarda quanti no si è bello no non l'ho capita lo chiamiamo pantene proprio di ignoranza così a caso pantene un po' come la bocca va a zap va a zap lo sai ah ha saldo oh 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 vuoi catturare oh vuoi catturare si deve catturarle diversi oh siete delle bestie vado a non ps ah che deve uscire hai due occhi ah romboldali tipo oh oh parca zia che lunga hai fregia male ah ma adesso gli faccio soggezione con bravo tragosto ha funzionato la soggezione ho in mente il nome perfetto per chi per armando ce l'ho 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 e mi ricordo un po' iron man non fa perchè allora chiamano tony stark ahahah punto punto giupa la fioraia il velen puntura più laggi più bagate che abbiamo visto si no ma qua io avevo letto veleno spino non veleno spino giuro velen puntura o veleno spino velen puntura io avevo letto veleno spino ma mi fin pur avvelenato che coglioni non dire niente almeno è vero vabbè mi fa più male l'apertamento di un pugno così sta andando avanti di rafforzatori no ammuta cura il problema di stato ah ok è già un ps adesso vedi super passione è uno strumento usate va a finire così ok ciao vai fuori dalle palle ciao mi sembra un po' tranquilla come nasi ho trovato due metà cioè non nemmeno aveva saputo ok grazie a dio attenzione eccezionale è proprio lui anzio gimme gimme tony daddy sai chi deve prendere gimme gimme ho un gufo nocturl prendiamo un nocturl di ice che lasciate ne sono 7 ti rendi conto ce li faremo bastare vai nella vita ce la facciamo per questo no 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 sì io lo chiamerei jimmy ma non ce l'avremo ancora quest'anno jimmy è un professore di questi due rincolini quelle sono due sorelle che hanno un po' di colore ho sbagliato quanto non è un pigliamusco e ci scomento tutto poi un quadro infame per te solo le lana inutile sì torna come sta ancora dormendo e cazzo ho lanciato un po' qui non si sveglia qui sveglia cretino ha funzionato non è un po' qui bisogna insultare più spesso veramente come è morto quel polpo perchè ha l'ho paura di farlo che deve crescere che cosa che cosa privazione ma ma perchè butta me perchè non ha fatto un cazzo toglielo se non muore subito vogliamo dire di drago proprio qui siamo messi male c'è ma sono un figlio a mosche però c'è Cresselia ha figliato Cresselia se c'è andiamo giro correttino cosa c'è Cresselia è una mosca e infatti c'è un po' confuso quanti piaceranno non ricordo ma tanti sicuramente no no non ti confondere ma l'idea chiara avvolge un po' tutto adesso vedi che non voglio figli che ti manca figli che ti manca c'è un ma tanta difesa di franza speciale tu sei due in teca assoluta si non ne impara mai niente eeeh vabbè ci hai voluto al 10 grazie aspetta Rampardos la coppia che scoppia nel senso che uno usa l'esplosione non quella Rattata Rattata che è Rampardos c'è stata su Rattata povera Rampardos non esiste via di vita eh cazzo con due Rattata è il secondo pokemon più veloce capiamoci qua dentro muto cuo sasso salutali Rattata giù il dubbio suo esistenziale dove vanno i pokemon quando muoiono non muoiono si hai capito se no vedresti pile di cadaveri di pokemon potrebbe essere un'opzione qua c'è la sinistra osso clava cosa abbiamo con gli ossi in questa puntata c'è osso clava osso raffica la prossima cosa trovi? osso madre ma porca miseria adesso trovi Luca no salve signor Gary salve lo fra uccide ma spessa Roma se non mi piace non mi piace infatti ci sono una cosa che luci in dolore vino di drago luci in dolore 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 come si fa a scacciare la mano e dai ho portato dragovski al 18 luci in dolore dovevi aspettare tipo 4 ore 4 ore l'unico l'unico anche dolci l'unico l'unico petto una canzone sotto con i problemi tecnici e 1,2,3,4 cosa una canzone per i problemi tecnici una canzone per i problemi tecnici aiutino dai va avanti aiutino aiutino oh sai che devo farlo oh no non lo devi fare e che cazzo faccio aspetta aspetta no non le ne ci metto troppo io non ho idea di dove hai salvato tu l'ultima volta affanculo ho salvato eh io vado per forza c'è non no la faccia e cosa faccio sto qua a guardare ma l'ha schiacciato ma l'ho schiacciato no zitti sento a casissimo no save ha salvato adesso adesso oh giusto vabbè oh noi siamo forse in galassia e ci siamo andato qui vabbè smettita di lamentarti ecco lavoro e basta politica aziendale perchè hanno questo vizio di piazzarsi davanti alle porte a parlare perchè hanno questo vizio di piazzarsi davanti alle porte a parlare non funziona non funziona non funziona tua nonna tua nonna ce lo giuro ho capito tua nonna te lo giuro azione falisce ancora ma che cosa ha aziendale in questi giochi questo è ancora un buon gioco a crema e infatti devo catturarlo così no 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 ma dio perchè se lo sostenono un dito se no non lo prenderanno mi raccomando ragazzi mi raccomando stai arruntito non è possibile catturare un po' nella nazzlocke stai arruntito e tu di a casa e giuuu perchè 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 è il nome di alessandro volta l'inventore della batteria ma quello è che che te le studi a casa e li vedi su no li invento su non osare entrare nell'impiato tubi non ordine di prendere l'accesso tu sguardo bisogna di capire che ok se questo ce lo vedi di lottare con me hai capito? no ti ho visto bravi no 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 si oh coincidenze Driflun lo trovi solo l'impianto turbine di venerdì ciao Driflun non devi capire lo so ma la recluta al Driflun ciao Driflun che casualmente si sono spostati coincidenze per andare a molestare il signore del miele per andare a molestare un povero vecchi che vogliono miele più che altro cioè rendiamoci di conto di quanto è caduto in basso Team Galassia cioè prima Pokémon e vogliamo l'universo nel suo pipì il miele vogliamo il miele e questo qua è Darkrai Muntine eh stessa roba Muntine non è Darkrai 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 in Ira di Drago fa ancora il suo score con la 2 intanto c'è gente che gioca a Aeros adesso sta a me sono in vantaggio perchè appena ho fatto con di lui quella no 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 flash flash bronzer eh perchè è bronzer eh ma di solito loro ce l'hanno bronzer quindi è normale si infatti questo è mio cosa che non ce l'hanno cose strane è molto forte sarà facendo una partita a serie no male ha dimenticato una falla come no è la chiave non è servito nulla a chiudere la porta alla fine sono io da aver perso un loro devo avvisare il comandante sì così ma cazzo si girava eh uno dei tre comandanti no aspetta uno dei quattro comandanti giusto perchè non c'era mister simpatia in alto a destra eh è stato giunto dopo mi dice chi quello lì è vero si è molto triste va bene va bene va bene ho capito siamo contro Marte Marte? si no no Landron Manager scusate con Abra Cadabra fa teletrasporto occhio aspetta un attimo si fa teletrasporto no non va c'è una motel con me eh non funziona vorrei ma non proprio è ancora tua madre è libera e pensare che aveva Zubat con Toshimba questa tizia ma che fa? tocca sprecarlo così dici che mi ammazzo? no 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 ok è morto pure va bene si è l'ultimo arrivato qui vedi avevo ragione non c'erano nessuno originale mattinga lascia bla 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 energia universo mondi che si spargano mondi figlia bambina bambina papà sento un odore eh si io ho dovuto lavorare duramente per due episodi credo che basti quindi ragazzi il video ci è piaciuto commento commento mi piace iscrivetevi da qui da 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 Roma e taros con un entusiasmo che fa paura è tutto noi ci vediamo in prossimo video della Luzzlock io non ho ancora figlio di serbato si blocca lo schermo quindi si blocca lo schermo quindi si blocca lo schermo bella ragazzi antidoto si ok meglio averne in più che in meno ma ripresa non so se uh i primi due non che oh oh o i anche o i i i No, 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 no